Ah io guarda, meno 100, meno 50, meno 50, 0, 0 Io vorrei sentire la chat di gruppo di loro Com'è che cazzo hai fatto? Cioè te non hai fatto niente Ma che cazzo? E non te l'ha dato come team kill? Ma che cazzo è? Guarda dove è? Guarda Eh sì, sto fermo, non faccio niente Sono già morto Ma dai ma Non mi fa neanche cambiare, te sei morto? Ah ma mi hanno ucciso subito ovviamente Ce l'avevo uno alle spalle, capirai Sì Round vinto Interessante Eh io ho vinto 20 secondi di decisione della vittoria Questo lancia il coltello a cazzo Ma dai qui c'è qualcuno che ha hackerato Cioè Posto Fuoco amico non tollerato Eppure me lo dava come rosso Cioè io non Perchè non giochiamo sempre così? Perchè non giochiamo sempre così? Sì ma me cazzo Non mi fa muovere di buono Modalità spettatore ma Esatto Esatto Fa solo girare la testa Ah ci saranno Ah non c'è problema Io ho ancora 32 minuti di video da poter fare Ah io sto filmando tutto Questa ragazzi Non la puoi raccontare Dove? Ecco Aspetta sì sì eccole eccole Dio povero ho sentito i passi Eccolo eccolo È in Berserk con due ranger C'è uno che sta girando in tondo Lo vedi? C'è uno Lo vedo dalla finestra Sta girando in tondo come un matto Ma su un cazzo com'è vestito Vestito da talebano Vestito da talebano Vestito da talebano Si spara Abbiamo perso questo lato Ma non è ancora finita No Adesso non farà vedere Un minuto Vedi? 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 È quello che girava prima Ma che cazzo? Cioè scusa fammi capire Se uno gira su se stesso L'altro spara Non ti colpisce? Ma cos'è fatto la roulette russa? Cioè non ci... Cioè non ci... Cioè non ci... Ah io sono già morto Come scusa? Non ho capito Però bello Mi ha fatto fare modalità spettatore E sono in alto nella mappa Vedo tutti Più o meno sì Sì ti vedo ti vedo Stai uscendo adesso dalla... 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 Sì sì Voilà che è finita No ragazzi il pareggio no però Praticamente no Non mi ha fatto entrare per niente Che cazzo? Ma una madonna Sì 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 Sto filmando Posto Fuocamico Praticamente hanno ucciso un cecchino Il fucile è andato per aria Nooo Cioè non ci cre... Non l'ho filmato Si vede il fucile Il barret che prende e va... Lo sto facendo adesso Si vede il... Questo? Perché non l'hai ucciso? Praticamente se hai visto sto cecchino morire È il fucile andare verso l'alto E... Visto il fucile dove va? Non ci posso credere Non ci posso credere Ah io ho perso meno 150 con 5 morti È perso Limite di migrazione raggiunto No da sentire usciamo perché Ma che ca... L'ipsilo? Zero punti? Cosa vuoi dire sono fatte? Ma guarda te... Le squadre sono giuste... Ma guarda te... E... Le squadre sono giuste... Le squadre sono giuste...